Via Santa Filomena, ribattezzata il Food District Catanese, si rinnova con un nuovo intervento di arredamento e riqualificazione urbana grazie alla volontà e al lavoro di un gruppo di ristoratori, negozianti e proprietari di strutture ricettive che hanno deciso di unirsi per trasformare questo spazio in un luogo fruibile da cittadini e turisti. La Santa Filomena District è un progetto che presentiamo oggi ma che è il frutto di un lavoro di decenni. Infatti negli anni Via Santa Filomena è diventato un punto di riferimento per la città, non solo per i catanesi ma anche per i tanti turisti stranieri che ogni giorno affollano i tavolini dei nostri locali e i nostri negozi. Il messaggio che vogliamo dare è quello che certe cose si possono fare anche a Catania. Siamo un gruppo di imprenditori che anziché rimanere fermi a lamentarci e aspettare che le cose cadano dal cielo, ci siamo rimboccati dalle maniche e con tanto sacrificio e tanta plegazione siamo riusciti ad arrivare a questi obiettivi. Essere uniti per portare qualcosa di bello, qualcosa di attraente per una città che ha bisogno di restare illuminata come noi stiamo facendo stasera. La Domena Dick Street è secondo me comunità, è il simbolo di quello che vuol dire comunità, cioè un gruppo di persone si uniscono in questo caso per rendere una via più fruibile e più bella agli occhi dei cittadini e delle cittadine nazionali, catanesi e internazionali.